L'emergenza non riguarda solo l'estate ma un po' tutto l'anno. La situazione in città è che mancano tante sacche di sangue tutto l'anno. Ovviamente in estate la situazione si aggrava, diventa ancora più drammatica, quindi parliamo proprio di una vera e propria emergenza, in quanto le domandazioni diminuiscono durante questo periodo e quindi il problema si fa sentire ancora di più, ancora più pesantemente. Questa iniziativa nasce proprio con questo scopo, quello appunto di stimolare i cittadini a venire a donare, a fare questo gesto d'amore verso il prossimo perché comunque donare sangue può salvare delle vite e quindi è fondamentale che ci siano queste iniziative e le tante altre che comunque anche come Avis facciamo tutto l'anno. Per alcune patologie l'unica cura è quella del trapianto. Abbiamo bisogno veramente che la gente sposi questo progetto perché, come diciamo sempre, bisogna essere un donatore perché domani potrebbe servire anche a te. Perciò facciamo l'appello a tutta la comunità di continuare a crederci in questa cosa perché la donazione è fondamentale ed importante. Ci sono troppi bambini che sono in lista di attesa di trapianto e più di 8.000 persone in Italia sono in lista di trapianto. La situazione a Messina è una situazione in questo momento molto ferma perché è entrato in uno stallo tra il Covid e tra anche che sembra che si sia abbassata la guardia su questa tematica e che noi invece dobbiamo rialzarla, sta attenzione e comunicare sempre alle persone che la donazione degli organi è fondamentale.